se tu le apri mandi il busto tra il bastone e lo sci e crei torsione che no ti ammati di fatica non si ce n'è stai più avanti Simo fatti tenere su dallo scarpone figata adesso rientro dai dai vai avanti con la testa giù giù avanti con la testa giù giù la neve bacia la neve così molto meglio lì brava vedi che funziona